Si è conclusa sabato scorso presso il villaggio Copacabana la prima sezione del ventesimo corso di formazione Animali e Qualità della Vita, organizzato dall'Associazione Parco del Cilento Centro Studi Maria Franciulli Battagliese di Ascea, che opera sul territorio dal 1997. Hanno partecipato alle attività che si sono tenute dal 22 al 26 aprile gli studenti dell'Istituto Superiore Gallizia di Nocera Inferiore. Per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, Psicopedagogico, il ricco programma dell'evento ha previsto la prima fase dell'11 stage sulla riabilitazione equestre, comunemente conosciuta con il termine ipoterapia, laboratori esperenziali sulla musicoterapia e sulla comicoterapia, seminari interattivi sul disagio adolescenziale, i minori a rischio e la disabilità. Gli esperti professionisti qualificati hanno relazionato in particolare sulle dipendenze, il comportamento aggressivo, l'ansia d'esame, i disturbi alimentari, le nuove dipendenze, il vissuto dei minori, vittime di abuso, violenza o abbandono, il linguaggio del corpo e l'innamoramento. Quest'anno sono stati convocati anche ragazzi dell'indirizzo artistico, i quali, oltre a visitare alcune delle bellezze del Cilento e Vallo di Diano, quali le aree archeologiche di Pessumo e delle Avelia, la Certosa di Padula e l'Abbadia di Pattano, hanno seguito lezioni interattive e laboratori di pittura e di lavorazione al Tornio dell'Argilla, realizzando opere e manufatti raffiguranti le bellezze del Cilento. A partire da martedì prossimo, 6 maggio invece, prenderà il via la seconda sessione del corso, a cui parteciperanno altri istituti superiori della Campania e della Puglia. All'interno del corso, oltre ai laboratori e ai seminari sul disagio adolescenziale e sulla disabilità, si svolgerà anche l'incontro per l'integrazione, a cui parteciperanno soggetti con disabilità del territorio occidentano, che saranno coinvolti in attività di ipoterapia e animazione con gli studenti. Anche gli anziani saranno ospiti dell'associazione, partecipando martedì 6 maggio ad un convegno sulla terza età e ad attività di animazione con gli studenti. Per gli organizzatori, gli obiettivi di questa manifestazione, che è giunta alla ventesima edizione, anche grazie alla qualità delle attività formative offerte, sono promuovere soprattutto nei giovani la solidarietà sociale nei confronti dei soggetti con disabilità, offrire a questi soggetti attività per migliorare la qualità della loro vita, favorire la conoscenza e la diffusione di strategie riabilitative molto efficaci, quali l'ippoterapia, la musicoterapia, la comicoterapia, e fornire ai fanciulli e agli adolescenti delle conoscenze e degli strumenti per affrontare il disagio psicologico, che soprattutto nei nostri giorni è spesso collegato a questi importanti periodi della vita.